Il Dallus di Lisbona Ed ecco le formazioni delle due squadre Ci siamo quasi, allora chiedo a Luca Marcheggiani che chiave tattica si aspetta decisiva per questa gara Entrambe le squadre si sono preparate a dovere, credo che alla fine la differenza la faranno solo gli episodi La partita è iniziata Ruba palla, il portiere respinge Buona la conclusione La battuta in mezzo Blocca il portiere Mario Zapata Sbagliata la scelta di insistere in mezzo Mario Ben posizionato, riceve palla, può attaccare Ottimo triangolo Recupera il pallone Crossa il pallone a centro area Va di testa Rete 1 a 0 Un grande colpo di testa in tuffo Sì, si è tuffato con il tempo giusto Davvero un bel gol Grazie a tutti Davvero una grande partenza, un ottimo inizio Hanno segnato presto, ora devono giocare per farne un altro E il pallone viene recuperato La manovra è troppo macchinosa, i compagni non si smarcano e lui non ha una soluzione di passaggio Mario Lagnia Metri, rimessa laterale da posizione interessante La mette al centro, stacca di testa E qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore Mario Occhio al movimento sulla corzia Palla fuori, sarà rimessa dal fondo Sono passati 15 minuti in questo primo tempo Si muove verso l'area di rigore Occhio al tiro Bel tiro, ma sul portiere Bel tiro, ma troppo centrale E' in posizione per il cross Prova a indirizzare Tutto bello Pranettino Ottima azione sulla fascia e bel inserimento Ci sono andati davvero vicini Josip Ilicic Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio De Silvestre Viene con sicurezza Deve buttare dentro un cross Buona lettura difensiva, cross respinto Sicuro, qui, in portiere Il difensore gli si è incollato addosso Impedendogli di calciare liberamente Moretti De Silvestre De Silvestre Cerca spazio Approvato, non bene Ha una buona occasione Un po' crossa in aria Ballone che è uscito Si rimane in zona d'attacco Grande movimento dello spazio Ecco il tiro Azione sfumata Palla fra le braccia del portiere Un errore che a questi livelli di solito non si fa Era lì, a due passi dal bersaglio Manca un quarto d'ora alla fine della prima frazione Sbaglia l'appoggio al compagno Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo Buona lettura difensiva Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo Può andare Azione interessata sulla fascia Dovrebbero allargare qui il gioco sulle fasce laterali secondo me Palla al centro Palla al centro Provano il contrattacco De Silvestre C'è davvero una bella serie di passaggi Riceve e si prepara ad avanzare Buona serie di passaggi Mario Mario C'è la possibilità di ripartire Mario Josip Ilicic Riceve un pallone interessante È tutto solo E' tutto solo Il passaggio in profondità sulla fascia La mette in mezzo Josip Ilicic Alza la testa e guarda verso il centro Ottimo dai e vai De Silvestre La mette dentro La mette fuori E arriva dunque il fischio finale di questa prima frazione Sono riusciti a passare in vantaggio nonostante un primo tempo povero di occasioni Hanno ottenuto davvero il massimo del risultato con il minimo scorso 1-0 alla fine della prima frazione E credo che insomma il secondo tempo sia tutto da vivere Partiti devono continuare così per regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi Prova a passare la difesa col pallone profondo Pericolo può tirare Ha angolato troppo sulla sinistra Forse il primo tocco non era abbastanza preciso e ha compromesso la qualità del tiro L'azione era ben organizzata ma hanno sbagliato l'ultimo passaggio Passaggio non va a buon fine I compagni non lo aiutano Ottime le qualità di palleggio Non ha nessuna a cui appoggiare Mario Lo metto completamente in ritardo Pallone dentro Sale di testa Sicuro qui in portiere E' la pressione del difensore che non gli ha permesso di calciare meglio Angaccia il passaggio C'è campo per andare Palla che finisce fuori Ottimo il traseggio Ottimo ad avvicinarsi all'area avversaria Occhio al contropiede Va di testa Ci ha messo troppo Ha perso l'attimo Non ha acito abbastanza in fretta Ha permesso la difesa di riorganizzarsi Adesso il destra Prova il filtrante Un buon pallone Brutto Tecco Calcio di punizione Attenzione all'arbitro Che astrae cartellino Giallo Giallo Tocca verso il centro Colpisce male Ben posizionato Riceve palla Può attaccare Mancano le opzioni Si propone La terrenette E so fuori Dalla contraerea Ottima posizione Trova bene il compagno De Silvestre E questo è chiaramente fallo Palla a Deco La squadra non sta facendo movimento Non c'è nessuno a cui appoggiare il pallone Palla verso il centro Allontana il pericolo C'è spazio in contropiede Cerca la profondità Da lì non si passa Aggancia il passaggio Occhio alla circolazione di palla Ha una buona occasione De Silvestre Insomma Qui dovevano chiudere la partita E non ce l'hanno fatta Mario Mario Cerca di superare la difesa Con questo pallone lungo Occasione E ce l'hanno fatta E un vantaggio importante Arrivati a questo punto della gara Era difficile fare di meglio Un tiro perfetto Grazie a tutti 2-0 2-0 Massaggio che non va a buon fine Pallo forse anche intenzionale questo Da lì potrebbe anche trovare la porta Ecco che ci prova Potevano portarsi sul 3-0 qui Qui avrebbe potuto chiudere il discorso Sarebbe stato impossibile rimancare tre gol Parte il cross Spazza il pallone Ci ha provato Ma secondo me non era convinto neanche lui Gomez Tempo che tanto passa Palla a decco Palla in out Palla in out Ci sarà rimessa laterale Ottima chiusura difensiva Nessuno sarà ad aiutarlo Passaggio impreciso Cross verso il centro Corner Ultima possibilità Soluzione in mezzo Soluzione in mezzo Spazza via il pallone Pallone che ha superato interamente la lina bianca Ecco il cambio Ecco il cambio La parte dell'allenatore A metri Metterla in mezzo Palla a decco Crossa in mezzo Cross controllato da difesa Gomez Trova il filtrante Riceve il passaggio C'è il tiro Ottimo comportamento della difesa Che ha lottato in pericolo Splendido intervento nel portiere Qui il portiere ha tirato giù la sala finisca Palla verso il centro Spazza via il pallone Palla verso il centro L'arbitro sancisce la fine dei 90 minuti di gioco Ce l'hanno fatta una grande vittoria Sono riusciti a prevalere sugli avversari E ovviamente i tifosi festeggiano E' arrivato il momento dei saluti La parte mia di Bergir Barbo E di Luca Marcheggiani